Allora, io direi anche se ci sono ancora persone in arrivo di dare avvio a questo incontro perché questa mattina abbiamo molti interventi e non possiamo ritardare ancora. Quindi do il benvenuto a tutti a questo workshop organizzato da IFEL su energie rinnovabili e finanza locale. Per chi non ci conoscesse ricordo che IFEL è l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale, è una fondazione istituita da Lanci per occuparsi appunto dei temi riguardanti le entrate e le spese dei comuni. Il sistema finanziario dei comuni per dare, su questo svolge un'attività di studio, di monitoraggio e di analisi dei processi in corso, dell'evoluzione del sistema di finanza pubblica e in particolare del sistema di finanza locale. fa attività di formazione per i comuni, svolge attività di assistenza e consulenza anche alle amministrazioni locali su questi temi. Abbiamo pensato quest'anno di organizzare un momento di confronto, di riflessione e di analisi su un tema che è molto rilevante, non solo in Italia, ma proprio il tema delle energie rinnovabili e del loro rapporto con il livello di governo comunale e in particolare dell'impatto sulla dimensione finanziaria. Il tema è rilevante perché l'anno scorso nel nostro Paese c'è stato naturalmente un forte aumento della produzione delle energie rinnovabili e quest'anno si pensa che se le previsioni sull'idroelettrico saranno confermate supereremo il 30% del fabbisogno nazionale. Naturalmente è un tema che ha anche dei problemi, come ben sapete, cambia il quadro regolativo, diminuiscono gli incentivi. Siamo anche in un momento di diminuzione dei consumi, siamo in un momento di minore attenzione naturalmente ai temi ambientali, come tutte le fasi di crisi. E siamo anche, e qui vediamo se è un tema solamente italiano, stiamo anche affrontando un argomento che ha diversi aspetti critici proprio nelle relazioni fra i livelli di governo. Nello scorso anno ci sono state, il 67% delle opere riguardanti le energie rinnovabili sono state oggetto di contestazione o contenzioso. Molto di questo riguarda proprio le relazioni fra i livelli comunali e regionali. Quindi un tema di grandissima prospettiva, nel quale la dimensione locale è fortemente presente, nel quale la dimensione dell'impatto sugli aspetti finanziari è significativo. E noi abbiamo voluto affrontarlo in questo modo, con una mattinata dedicata all'analisi di alcuni casi stranieri, perché comunque il tema è rilevante in Italia, ma è rilevantissimo a livello mondiale. Nel 2012 gli investimenti mondiali in questo settore sono stati di 270 miliardi di dollari, nel 2011 sono stati di 300 miliardi di dollari. E da questo punto di vista siamo contenti di essere riusciti anche a coinvolgere questa mattina degli studiosi che ci danno un ritorno su alcune realtà, come le economie cosiddette emergenti, come Cina e India, dove il livello di investimenti è certamente superiore a quello dei paesi come gli Stati Uniti o l'Europa. Quindi la mattina la dedichiamo a questa analisi dei casi stranieri, cercando di vedere, di individuare in chiave comparata alcuni elementi interessanti di riflessione. Il pomeriggio invece è dedicato all'esperienza italiana, con temi che riguarderanno sia gli aspetti fiscali, l'impatto sul bilancio. Insomma, cerchiamo di mettere a fuoco il tema relativamente al contesto italiano, facendo tesoro di quello che abbiamo imparato nella mattina. Va bene, siccome gli interventi sono tanti, abbiamo nuovi interventi, io sto zitto, inizio, mi taccio, vi ringrazio ancora, ringrazio i relatori e cominciamo le esperienze, i casi nazionali con il Belgio, del quale ci parlerà il professor Mauro Mazza. Prego. Grazie.